Siamo giunti alle fasi finali della realizzazione del nostro giardino polivalente. Abbiamo creato la struttura del giardino grazie alla modellazione del terreno, abbiamo poi posto un telo pacciamanti in ecocanapa sulle scarpate per evitare l'insorgenza delle malerbe e proteggere il terreno nel periodo di circa due anni necessario alle piante per colonizzare lo spazio al loro assegnato. Siamo poi stati in vivaio a scegliere personalmente le piante da utilizzare nel giardino. Siamo adesso giunti alla fase dell'implementazione del piano di piantagione. Il piano di piantagione è il momento clou della realizzazione del giardino perché è la fase che dà al giardino l'aspetto finale. Il piano di piantagione consiste essenzialmente in uno schema dettagliato che riporta la tipologia, la posizione e la quantità delle piante all'interno del giardino. Grazie a questo schema i giardinieri sanno quali piante porre a dimora e in che posto all'interno del giardino. Nonostante questo però è importante che il progettista sia presente regolarmente in cantiere. Infatti a volte vengono apportate delle leggere modifiche perché il colpo d'occhio dal vero rende evidenti alcuni piccoli cambiamenti che possono fare la differenza. Il lavoro terminerà poi con la distesa di un impianto di irrigazione a goccia che ci permette di far attecchire le piante per i primi due anni all'incirca. Nonostante infatti le piante debbano essere scelte in maniera che siano adatte al clima in cui sono poste, per i primi due anni, ovvero quando sono giovani, hanno bisogno di un apporto di acqua regolare e costante. È impossibile in un giardino di queste dimensioni andare a dare acqua manualmente e quindi la predisposizione di un impianto a goccia permette di fare un uso dell'acqua molto efficiente senza perdite di tempo. Abbiamo anche effettuato una semina di un prato rustico, un prato cioè che a regime non avrà bisogno di irrigazione ma che anche in questo caso per far germinare il seme ha bisogno di acqua. Quindi abbiamo predisposto un impianto di irrigazione temporaneo che andremo a togliere alla fine della prima stagione calda. Il giardino si conclude poi con la predisposizione dei camminamenti, anche questi ricoperti con del telo pacciamante e poi con della ghiaia per dare l'aspetto naturale che vogliamo in questo progetto. A questo punto non mi resta che darvi appuntamento all'ultimo video in cui faremo una passeggiata all'interno del giardino finalmente completo. A presto!